Si dice che un milionario in media abbia sette fonti di reddito, ma cosa significa? Quali sono queste sette fonti di reddito? E soprattutto, su quali dovresti concentrarti adesso che magari sei all'inizio di una fase di accumulo di patrimonio e non sei ancora milionario? Bene, approfondiamo tutti questi aspetti in questo video. Prima di addentrarci nelle sette fonti di reddito, dobbiamo capire cosa si intende per reddito. Bene, per reddito definiamo tutte quelle opportunità che abbiamo di ricevere un flusso monetario in ingresso, cioè dei soldi che entrano nel nostro corrente e vedremo che possono essere di varie tipologie, però capiremo in questo video che ci sono forti differenze tra le tipologie di reddito e capiremo anche che alcune tipologie di reddito sono magari più adatte ad una certa fase della vita o sono più adatte a una certa tipologia di persone ed altre invece sono adatte ad altre tipologie di persone, ad altre fasi della vita. Iniziamo con la prima fonte di reddito. Quale sarà mai? Beh, chiaramente il reddito da lavoro e fin qua non è una grande sorpresa, ok? Lo stipendio, il fatto che lavoriamo per un'azienda, per lo Stato, quindi siamo dipendenti pubblici o magari siamo imprenditori, professionisti, bene, otteniamo uno stipendio. Questo è il reddito da lavoro, quindi è un reddito che in qualche modo è associato a quante ore lavoriamo, ok? Poi magari se sei un professionista o un imprenditore non c'è questo legame stretto, ma se sei un dipendente pubblico o statale saprai che prendi X euro all'ora, ok? Quindi il reddito da lavoro è strettamente legato alla quantità di ore che lavori. Quindi è chiaramente una tipologia di reddito che ha dei limiti. Perché? Perché oltre 8, 10, 12 ore al giorno è difficile lavorare, non è neanche auspicabile. Quindi c'è un limite massimo di ore che possiamo lavorare e quindi di reddito che possiamo ottenere dal lavoro. Questo non è sempre vero per le altre tipologie di reddito, ma ci arriviamo tra poco. La seconda tipologia di reddito che puoi ottenere l'abbiamo definita profitto. Cioè il reddito dalla compravendita di beni. Ad esempio prendo questo telefono, l'ho pagato, usato sul mercato, non lo so, 200 euro, però il suo valore magari è 300, quindi io lo compro a 200 e lo vendo a 300. Non ho apportato valore al telefono, è lo stesso identico telefono, ma semplicemente perché l'ho comprato bene e lo sto rivendendo ad una persona che magari ne ha bisogno in quel momento non trova un telefono ed è disposto a pagare 300, bene, io guadagno e ottengo un profitto. Il telefono è lo stesso, io non ho apportato alcun tipo di valore ed è un'operazione che verosimilmente si conclude in breve tempo, magari qualche mese. Un esempio di profitto possono essere quelle operazioni immobiliari che facciamo con i miei soci quando facciamo puro trading immobiliare. Cioè compriamo un immobile da una persona che deve vendere, quindi facciamo un'offerta, risolviamo il problema di questa persona che deve vendere, chiaramente se deve vendere magari è disposta ad accettare uno sconto e lo stesso immobile che è stato acquistato molto bene viene venduto magari al prezzo giusto di mercato qualche mese dopo. Quindi su quell'immobile magari non abbiamo fatto niente, neanche una mano di bianco, ma semplicemente si è tenuto un profitto perché è stato comprato bene e è stato venduto al prezzo giusto. Tipicamente questo è un lavoro da commercianti. Se ci pensi cosa fa un negoziante che vende scarpe? Le compra magari in stock, quindi compra a prezzi più bassi, applica il suo margine e rivende a un prezzo più alto al dettaglio perché ne ha comprate 200 di quel particolare tipo di scarpe e vendendole singolarmente le vende a un prezzo più alto. L'ortofrutta è uguale, non sta cambiando il valore del bene. La terza fonte di reddito sono gli interessi, quindi reddito da obbligazioni. Che cos'è un'obbligazione? Che cos'è un interesse? Bene, io presto del denaro a uno stato, ad una società, acquistando un'obbligazione e periodicamente ricevo gli interessi perché sto prestando questo denaro. Poi alla scadenza del prestito ricevo indietro il capitale. Questi sono interessi. Sugli interessi e sull'obbligazione non ha senso aggiungere molto altro perché si tratta di uno degli investimenti preferiti dall'investitore italiano. Quindi è uno strumento abbastanza conosciuto ed è chiaramente una fonte di reddito in condizioni normali e non nelle condizioni degli ultimi anni in cui stiamo vedendo tassi a zero a causa delle iniziative di quantitative easing, alleggerimento monetario portate avanti dalle banche centrali. La fonte di reddito numero quattro sono i dividendi, quindi il reddito da azioni. Cosa si intende? Bene, se tu acquisti un'azione diventi azionista, quindi vuol dire che ti prendi una fetta anche piccola, anche microscopica di un'azienda, del capitale sociale di un'azienda. Quindi questa azienda ha dei dipendenti, ha dei prodotti, eroga un servizio o produce un prodotto, bene, alla fine dell'anno ha un fatturato, tolte le spese, rimangono degli utili, una parte di questi utili viene distribuita sotto forma di dividendi. Quindi essere azionisti è come essere imprenditori, a tutti gli effetti. Magari nella mia impresa io sono azionista al 100% e quindi prendo il 100% dei dividendi distribuiti dalla mia società, se tu sei azionista all'1% di una determinata società prenderai l'1% dei dividendi. Chiaramente la questione è l'azienda eroga dividendi, quindi è profittevole, è da verificare e non è l'oggetto di questo video, però è indiscutibilmente una fonte di reddito al dividendo, fonte di reddito a cui chiaramente sono abituati gli imprenditori. Un aspetto importante che le persone non capiscono è che quando si parla di investire in borsa, investire in azioni, ci si dimentica il fatto che stiamo investendo nell'economia reale. Magari lo facciamo tramite uno strumento che può non essere facilmente comprensibile, un fondo, un ETF o anche il mercato azionario, magari un po' criptico, ma alla fine dall'altra parte c'è un'azienda, c'è una società con dei dipendenti, dei brevetti, dei prodotti che magari conosciamo, quindi stiamo investendo nell'economia reale e a tutti gli effetti siamo degli imprenditori. Abbiamo semplicemente una quota microscopica dell'azienda in questione, ma rimaniamo imprenditori. In realtà, volendo essere precisi, la differenza tra imprenditore e investitore è che tu saresti più che altro un investitore, nel senso che l'imprenditore ci lavora anche dentro. Tu hai il vantaggio di poter investire in quella società senza lavorarci e questo è quello che ottieni quando acquisti azioni ed incassando i dividendi che questa azienda eroga. La fonte di reddito numero 5 sono gli affitti, ok? Quindi il reddito da immobili. Hai un immobile, lo metti in affitto, c'è un contratto, questo inquilino paga ogni mese 700 euro per poter accedere ad un bene tuo che gli dai in affitto, perfetto, quindi è una fonte di reddito extra. Anche questa è una fonte di reddito stranota e straconosciuta dall'investitore italiano che prevalentemente investe in immobili quando riesce a metterli a reddito e in obbligazioni. La sesta fonte di reddito è il guadagno in conto capitale, cioè è il reddito derivante da una rivalutazione di un bene o di un titolo. Facciamo un esempio. Ho comprato un'azione a 100, la vendo a 120. Questo è chiamato guadagno in conto capitale, quindi non solo sono stato azionista per magari due anni dell'azienda in questione e ho ottenuto i dividendi erogati dall'azienda nel periodo, ma ho anche visto un apprezzamento del titolo, era 100, lo vendo a 120, guadagno 20 e questo è chiamato guadagno in conto capitale. La stessa cosa può succedere con la casa di proprietà, l'hai acquistata a 200 milioni di lire, sono passati 20 anni, questa stessa casa adesso vale 250 mila euro, sto inventando, ok? Quindi hai avuto una rivalutazione dell'immobile e un guadagno in conto capitale. L'ultima fonte di reddito sono i diritti d'autore, quindi il reddito derivante da una proprietà intellettuale. Un esempio facilmente comprensibile, magari tu sei un musicista, registri un disco, sostieni i costi per creare il tuo prodotto, il tuo disco una volta sola, però poi magari questo disco diventa un disco di platino, vendi milioni di copie, le canzoni di questo disco vengono diffuse in tutte le radio e tu guadagni dei diritti d'autore che derivano appunto dall'opera d'arte, dall'opera intellettuale che hai creato. Questi sono i diritti d'autore. Quindi queste sono le sette fonti di reddito. A questo punto è interessante chiedersi quante ne hai e quali è più logico avere in quale fase? Allora scrivimi qui sotto nei commenti quante ne hai e quali hai. Metti in pausa un attimo questo video, pensaci due secondi e scrivimi qui sotto quali hai. Il reddito da lavoro, il primo, verosimilmente lo abbiamo tutti, ok? O meglio, è la nostra priorità averlo. Se non abbiamo quello non ha senso parlare degli altri redditi, ok? Perché è il reddito che è più facile ottenere. Abbiamo determinate competenze, determinate capacità, le mettiamo sul mercato del lavoro, otteniamo un reddito. Senza quello non ha senso parlare di reddito da dividendi o da interessi. Perché? Perché per poter comprare il diritto di avere quei dividendi o quegli interessi dobbiamo spendere dei soldi e se non abbiamo un reddito che soldi spendiamo non ha senso. Quindi lo stipendio è qualcosa che dobbiamo avere tutti e deve essere la nostra priorità nel caso questo non sia magari un reddito certo. Se siamo precari, se non abbiamo magari un reddito sufficiente, prendiamo troppo poco, dobbiamo trovare il modo di avere una condizione stabile in cui abbiamo un reddito che costantemente entra ogni mese e ci permette di vivere una vita dignitosa, pagare tutte le nostre spese e magari risparmiare anche qualcosina. Il passo successivo è quello magari di creare un portafoglio di investimento, quindi magari utilizzare degli strumenti finanziari per poter acquistare un mix di investimenti che può essere obbligazioni, possono essere azioni, magari la porzione di un immobile, non so, con un crowdfunding, insomma avere la possibilità di ottenere un reddito prevalentemente dai punti 3, 4 e 5. Questo significa diventare investitori, quindi otteniamo nel breve periodo un flusso, quindi un reddito e nel medio e lungo periodo potremo avere anche una rivalutazione, quindi il guadagno in conto capitale che è il punto numero 6. Sulla fonte numero 2 e 7 dobbiamo poi fare delle considerazioni particolari, perché sicuramente come dicevo prima per quanto riguarda il profitto dobbiamo diventare dei commercianti, quindi si può magari anche arrotondare lo stipendio facendo delle operazioni di compravendita semplice, ok? Di qualunque cosa, anche solo magari svuotando il garage e vendendo cose che per noi ormai non hanno più valore, ma magari per il mercato lo hanno, bene riesco a creare un profitto, ok? Per me non valevano niente, magari le stavo per buttare e invece magari riesco a tirare fuori da questa vendita un piccolo profitto. Questo è un esempio semplice che può fare chiunque nei ritagli di tempo, ma può essere anche magari un lavoro più complesso, ok? Se è appassionato di moto, ho un mio amico che è appassionato di moto storiche, lui le compra, è in grado di metterle a posto, magari fa l'iscrizione ASI, quindi gli dà il bollino di moto storica e le rimette sul mercato, quindi si è creato un profitto perché ha comprato qualcosa e sì ci ha messo anche un po' mano, però ha anche generato un guadagno in conto capitale, perché magari il guadagno in conto capitale si genera o aspettando, ok? Che indica il tempo faccia crescere il valore di quello che abbiamo acquistato, magari apportando proprio valore. Se tu acquisti una casa, altre operazioni immobiliari che facciamo, acquistiamo immobili, li ristrutturiamo e li rivendiamo, bene qui stiamo dando valore all'immobile, quindi potremmo definire questa valorizzazione dell'immobile come un'opportunità di guadagno in conto capitale, perché stiamo migliorando qualcosa di esistente. Bene, nell'esempio del mio amico con le moto storiche abbiamo entrambi questi aspetti, abbiamo il profitto e il guadagno in conto capitale. Valutazioni a parte per quanto riguarda il diritto d'autore, esempi classici di diritto d'autore, non lo so, pubblichi un libro, pubblichi un disco come dicevo prima, che noi dobbiamo finanziare ad esempio i contenuti che vendiamo generano un reddito da diritto d'autore, cioè c'è un team che ha creato un contenuto e questo viene venduto, è al pari di un film, è stato creato un contenuto film che viene venduto in una moltitudine di copie, quindi va nella categoria diritto d'autore. Attenzione, aspetto molto importante, diritto d'autore a differenza del reddito da lavoro non ha limite, perché appunto non c'è un limite di quante copie puoi fare di un determinato contenuto. Anche il reddito derivante da interessi, dividendi e immobili ha un limite che dipende dalla tua capacità di acquistare quegli investimenti, però se tu continui ad investire non ha un limite vero e proprio, non ha un limite derivante dalle ore, che è un aspetto molto importante. Il reddito da lavoro è comunque vincolato alle ore lavorate, quindi chiaramente partiamo dal reddito da lavoro, ma il messaggio di questo video, ed è anche un po' l'analisi che ti invito a fare della tua situazione finanziaria, è capire che ci sono altre fonti di reddito che sono svincolate dalle ore lavorate e che potenzialmente sono scalabili all'infinito. E una persona che vuole migliorare la propria gestione finanziaria, avere più fonti di reddito, deve lavorare anche su tutte quelle fonti di reddito che non sono associate ad un lavoro fatto in prima persona, che sono scalabili all'infinito. Quindi queste sono le sette fonti di reddito, fammi sapere nei commenti quali di queste hai, su quali altre stai lavorando e cosa pensi di fare dopo aver visto questo video, che magari ti abbiamo stimolato delle idee che adesso vuoi mettere in pratica. Scrivimi tutto nei commenti, con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Sei ancora qui? Non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? Fallo subito, mi raccomando, ci vediamo dentro la piattaforma. Ciao, pianofinanziario.it, dai dai!